Top 5 comandi rapidi per migliorare la nostra esperienza d'uso nella quotidianità con i nostri dispositivi mobili di casa Apple, quindi iPhone e iPad. Nonostante l'applicazione Comandi Rapidi o Siri Shortcuts in inglese sia disponibile anche su Mac, oggi ci concentriamo sull'ambito mobile, quindi sugli smartphone e sui tablet di casa Apple. In particolare vedrete 5 azioni, 5 comandi, così si chiamano in gergo, che io ho creato all'interno del mio iPad e che potete anche scaricare da un link che trovate in descrizione, il quale vi riporterà ad una pagina di GitHub e da lì troverete 5 link, un link per comando, insomma per scenario, dal quale potrete andare ad aggiungere quel dato scenario creato da me, quindi del tutto sicuro, all'interno della vostra applicazione Comandi. Nel caso in cui non vi fidiate del sottoscritto avrete comunque un controllo extra da parte di Apple che viene effettuato automaticamente e che vi certifica la sicurezza delle mie automazioni, delle automazioni che vi condivido. E allora a questo punto cominciamo, mi scuso in anticipo se vedrete la qualità dello schermo un pochino bassa, ma purtroppo il sistema di trasmissione dello schermo che utilizzo solitamente non ha funzionato, allora ho dovuto utilizzare una medievale webcam che riprende il mio iPad sostanzialmente. E allora partiamo, partiamo dalla prima azione che è il menu Quick Actions. Si tratta di semplicemente un menu, un pop-up che si apre all'interno del nostro schermo e che ci permette di andare a scegliere una serie di azioni molto rapide da attivare. La particolarità di questa azione è che all'interno degli iPhone 15, dal momento che esiste un tasto chiamato Action Button se non sbaglio o qualcosa di questo genere, potremmo potenzialmente impostare questo comando come comando da lanciare alla pressione dell'Action Button. E quindi quando lo premeremo ci si aprirà questo menu dal quale andare ad eseguire queste azioni molto rapide, quindi in questo caso andare a registrare un video, a mettere il non disturbare, a mettere silenzioso, visualizzare il calendario, il meteo, indicazioni stradali e inviare un messaggio in cui si avvisano i nostri contatti di non disturbarci. Bene, in questo caso sarà molto comodo andare a farlo direttamente andando a fare clic sul tastino Quick Actions. Questo è il comando, ne ho anche già parlato in un video completo peraltro, quindi veramente andate a recuperarlo se volete, e si basa semplicemente su un IF, quindi se l'elemento scelto da questo menu è Registra Video, dammi a registrare un video con la fotocamera posteriore e salvamelo tra i video, insomma, tra i video recenti. E avanti così, se l'elemento è non disturbare, imposta la Full Immersion su non disturbare e avanti così. Capite che è molto comodo. Passiamo subito al secondo, facciamo veramente una carrellata rapida. Il secondo è un comando molto rapido che ci permette di gestire la luminosità delle nostre app, o meglio del nostro schermo, in base alle app aperte. Questa è una cosa molto semplice, vi faccio un esempio. Quante volte vi è capitato di aprire Instagram e di voler abbassare la luminosità? O di aprire messaggi, o di aprire TikTok, per esempio, di voler abbassare la luminosità? Ecco, qui potete farlo. Potete farlo con questo comando, dove andate a dirgli imposta la luminosità su 20% e poi, nella sezione Automazioni, andate ad abilitare questa automazione. Quando l'app Instagram viene aperta, esegui volume Instagram. E poi, quando l'app Instagram viene chiusa, luminosità fine Instagram, che vi faccio vedere cos'è. Ci va a riportare semplicemente la luminosità al 50% e quindi, insomma, al livello a cui era impostata prima che venisse abbassata dal nostro comando. Lo stesso vale anche per la terza azione e, in particolare, per quella che ci va a gestire il volume. Anche qui, quante volte apriamo TikTok e ci parte il volume del primo TikTok al massimo? Magari siamo in bus e tutti si girano. Ecco, evitiamo queste scomodità, questi problemi. Prima di tutto, indossando delle cuffiette, che direi che è la soluzione più comoda. Ma poi, anche utilizzando questa automazione, potrebbe essere interessante. E anche in questo caso abbiamo imposto il volume dei file multimediali su 0 e poi, in automazioni, quando l'app Instagram viene aperta, volume Instagram, che quindi ci va ad abbassare il volume. Quando l'app Instagram viene chiusa, volume fine Instagram. Quindi, ce lo va, ve lo faccio vedere anche qui, a riportare al 50%, cioè il volume a cui era impostato il dispositivo precedentemente. A questo punto, idea, diciamo, consiglio scenario numero 3, uno scenario che io ho voluto chiamare precauzioni. Si tratta di un'automazione che ci va molto semplicemente ad inviare tramite messaggi di iPhone. Qui ci possiamo integrare anche Telegram, ve lo faccio vedere, lo possiamo andare a prendere. Insomma, non c'è, ma comunque nelle app, ecco qui, potete anche andare ad integrarci Telegram, WhatsApp, la mail potenzialmente. Insomma, avete diverse scelte e molto banalmente vado ad inviare un messaggio a questo numero con scritto Il mio telefono sta per scaricarsi, questa è la mia posizione e va ad allegare la posizione attuale, la quale verrà mandata come indirizzo. Ipotizziamo che io sia, che ne so, in via Roma. Verrà scritto la mia posizione, due punti, via Roma e poi la città e avanti così, insomma, come vengono solitamente formattati gli indirizzi. Molto comodo, anche in questo caso veramente, veramente breve come scenario, però al tempo stesso utile nel caso in cui la batteria stia per scaricarsi. Anche qui c'è un'automazione che va a lanciarlo, ovvero quando il livello della batteria è inferiore al 10%, Cioè, insomma, semplificato quando la batteria scende al di sotto del 10%, vammi ad eseguire il comando precauzioni. Infine, ultimo ma non per importanza, un comando che io reputo, scusate la ripetizione, molto importante nella nostra quotidianità, ovvero un comando clipper, che ci permette di andare a ricevere dal menu di condivisione degli elementi, in questo caso file e altri 9 elementi dal menu di condivisione, e che poi ce li va a riportare, ce li va ad inserire al nostro pocket. Questo vuol dire che se io vado su Chrome, apro un qualunque sito, cerchiamo notizie, apro questo qui per esempio, Vado a condividerlo e scelgo come destinazione della condivisione clipper, ecco che mi verrà eseguito il comando, e a questo punto, magari non ve lo faccio vedere, apro il mio pocket e troverò tra gli elementi, tra gli ultimi elementi salvati, ovviamente, questo articolo. Eccolo qui, è esattamente lui. Ragazzi travolti sul fiume, eh? E qui è lo stesso, accetta e chiudi. Ragazzi travolti sul fiume. Capite che è lo stesso scenario, è lo stesso articolo, volevo dire. E quindi la mia automazione ha funzionato correttamente. Questo vuol dire che direttamente dal menu condivisione possiamo andare a salvarci degli elementi. Questo vale anche per i pdf, per le foto, per i testi e per qualche altro elemento che adesso non ricordo. File, pdf, testi, testi non formatati, url, articoli, pagine web di Safari, posizioni, indirizzi email e numeri di telefono. Questi sono i tipi di contenuto multimediale, tra virgolette, che possiamo salvare all'interno del nostro pocket. E questi sono anche i contenuti che il nostro scenario può ricevere dal menu condivisione e che poi andrà ad inoltrare al nostro account su pocket. E questo è quanto. Questi sono gli scenari che volevo proporvi quest'oggi. Vi chiedo ancora scusa se non avete visto insomma al 100% della qualità il mio iPad e la mia spiegazione. Spero comunque che il tutto sia stato comprensibile. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per scaricare e per aggiungere alla vostra app Comandi Rapidi i comandi di cui vi ho parlato durante questo video. E a questo punto vi ringrazio, vi mando un abbraccio e un appuntamento alla prossima. Ciao ciao!